Siamo nuovamente a Pertusio per un'altra inaugurazione dopo il recente taglio del nastro della bocciofila, oggi invece l'inaugurazione di un mezzo importante per il comune ovvero il pulmino. Siamo con Giuseppe Damini, primo cittadino di Pertusio, a lei Sindaco chiediamo appunto quanto sia importante questo nuovo servizio. Sono molto contento di inaugurare qui il nuovo pulmino per tutti i ragazzi delle scuole di Pertusio e tutti i ragazzi di Pertusio che frequentano anche la scuola media inferiore a Valperga, ringrazio Gianluca ed Elena della bocciofila perché è stata loro l'idea, perché avrebbero voluto per farsi conoscere offrire una merenda ai ragazzi della scuola primaria che sono qui con noi oggi, quelli della scuola dell'infanzia verranno in un'altra occasione perché adesso sono ancora impegnati con gli inserimenti quindi non si allontanano ancora dalla struttura e allora ho detto perché no, portiamo il pulmino nuovo che è arrivato martedì scorso e facciamo un'inaugurazione, invitiamo la dirigente scolastica che ringrazia per la presenza e stiamo aspettando ma li ringrazio tutti perché questo pulmino è stato acquistato con il contributo della regione Piemonte che ci ha dato sostanzialmente una grossa mano perché il vecchio pulmino era ormai aveva 20 anni, non era più omologato per il trasporto dei bambini più piccoli mentre invece noi volevamo un mezzo che fosse adeguato sia per i bambini più piccoli quindi della scuola dell'infanzia per le loro piccole uscite sul territorio, per i bambini della scuola primaria nella misura in cui anche loro possono fare delle uscite didattiche con questo e poi il servizio quotidiano è quello ai bambini, ai ragazzi e alle ragazze della scuola media e inferiore perché li raccoglie nel paese, li accompagna fino a Valperga e li va a recuperare all'uscita. Ringrazio come dico la regione, il presidente, l'assessore Tronzano, i nostri consiglieri regionali che ci sono sul territorio quindi il consigliere Fava, il consigliere Cane, il consigliere Leone perché il comune di Pertusio ha chiesto un contributo e la regione ci ha inseriti fra quelli che sono stati destinatari di questo contributo altrimenti con le nostre sole forze probabilmente non ce l'avremmo fatta abbiamo fatto un piccolo investimento e quindi siamo ben contenti di questo nuovo mezzo Sindaco, si può dire che Pertusio si sta muovendo sotto tanti punti di vista soprattutto per la socialità e per tutte le varie generazioni, sia che siano adulti sia i bambini Sì, è un punto, lo è stato del nostro programma elettorale, lo è adesso della nostra amministrazione da una parte le scuole e per le scuole ringrazio anche la consigliera Lucia Bonato che mi dà una mano ma anche io stesso in prima persona me ne sto occupando e voglio interessarmene perché un paese vivo, le nuove generazioni sostanzialmente ci sono e crescono qui poi oltre alle scuole le associazioni come le associazioni sportive qui abbiamo l'associazione del Pertusio Calcio a cui è appena stata affidata di nuovo la gestione di questi campi perché crediamo in loro e vogliamo che proseguano nella collaborazione per come si sono sempre comportati in questi anni chiedendo anche a loro una piccola sfida per il futuro perché vorremmo avere qualche cosa dedicato ai ragazzi magari provare a creare una squadra giovanile qua a Pertusio così come l'associazione delle bocce ma dall'altra parte siamo ormai alla vigilia della festa di San Firmino quindi per tutte le generazioni e con la Proloco che devo ringraziare tantissimo e anche lì in prima persona io ma poi il mio vice Antonio Cresto Piero Pomatto, il consigliere delegato alla fiera, Luciano, l'assessore abbiamo sostanzialmente lavorato in squadra per cercare di riportare la festa di San Firmino a quello che era prima del Covid e abbiamo riempito dieci giorni quindi vorremmo veramente che la popolazione partecipasse perché speriamo che la popolazione di Pertusio abbia voglia di fare festa abbiamo invitato anche le popolazioni ovviamente dei paesi vicini e sicuramente questo è il modo migliore per tenere vivo un paese quindi dedicarsi sia alle generazioni più giovani sia a tutte le altre generazioni creando degli eventi, delle manifestazioni che possano essere sostanzialmente un qualche cosa di più per il vivere e qualificare la vita in una piccola comunità a differenza di una grande città o di una cittadina un po' più grande